ciao e benvenuto alla puntata del video podcast finanza semplice di alfonso selva oggi parlerò di un argomento molto particolare la casa oppure l'investimento in un fondo cioè investire nel mattone o investire in un fondo a cedola questo è un dilemma che affronto spesso con le persone che incontro e con i miei clienti la prima cosa che bisogna dire è che negli anni e negli italiani la moda e l'amore per il mattone viene da molto lontano tutto nasce dopo la fine della guerra con il desiderio di avere il possesso di una propria casa per avere la tranquillità di un tetto sulla testa complice la ricostruzione post guerra e l'arrivo di tanti soldi del piano marshall l'italia si popola di gru che costruiscono case e gli italiani si lanciano all'acquisto di queste case con l'arrivo del boom economico del 1960 tutti vogliono comprare la casa dove abitano e parte una rincorsa in salita dei prezzi che si ferma solo nel 2008 in quegli anni dal 60 al 2008 i prezzi delle case sono cresciuti anche grazie all'inflazione a due cifre che arriva anche a superare queste due cifre anche superare il 20 per cento e quindi con una memoria storica di 50 anni dove i prezzi delle case sono quasi sempre cresciuti è difficile affrontare il mito del mattone e cercare di essere realisti attuali sui vantaggi e svantaggi della possibilità di investire in una casa faccio un rapido elenco dei pro e dei contro che ci sono e anche quelli che stanno per arrivare perché arrivano è la popolazione italiana in decrescita l'inflazione è bassissima e non si prevede in tempi brevi una risalita altra cosa importante investire in una casa è rischioso in italia è difficile sfrattare l'inquilino che non paga nel 2018 ci sono stati circa 50 mila sfratti per morosità ancora ad oggi le tasse sulla seconda casa sono alte e abbattono notevolmente il rendimento netto che deriva dall'affitto ancora in parlamento già c'è un disegno di legge di riforma del catasto per aumentare adeguare il valore catastale a quello commerciale e anche l'europa ci chiede adeguarci a questo inoltre quando si passa da il proprio patrimonio agli eredi tasse e spese da pagare per l'eredità sono molto alte anche qui è giacente un parlamento una riforma delle aliquote di tassazione delle successioni ancora una casa non è un bene liquido nel senso che se hai bisogno di soldi non ne puoi vendere un pezzetto ma devi renderla tutta e non lo puoi fare in una settimana a meno a meno di non perderci moltissimi mentre invece un fondo si può vendere anche in una settimana le spese che sostiene al momento dell'acquisto e le ammortizzi solo dopo più di due anni inoltre se fai un contratto di affitto 4 più 4 addirittura 8 più 8 non ha nessuna rivalutazione dell'importo percepito ancora quando vendi la casa devi ripagare le spese di intermediazione che hai pagato quando hai comprato la ripaghi con delle vendute ancora altre hai sempre la preoccupazione di gestire gli incassi dell'affitto di provvedere alla gestione delle spese straordinarie della tua casa questi sono tanti tante problematiche allora mi dirai e i pro di investire in un immobile non ci sono allora mi stai dicendo di non comprare mai una casa no aspetta un attimo capiamoci bene io qui non sto parlando di non comprare la prima casa dove vivere con la tua famiglia ma sto cercando di analizzare se con i tuoi 200 300 mila euro comprare un'altra casa investirli in un fondo con un investimento che ti dà una cedola per cercare di farmi capire ancora meglio faccio un esempio prendendo una casa media a milano che dopo tutto non neanche poi così crollata come il resto delle grandi città i prezzi sono tenuti monologale a milano zona porta romana una zona media con un costo di 235 mila euro un affitto mensile di 850 euro un affitto annuale di 10.200 e da un rendimento del 4 e 34 levaci l'acetolare secca di 2.100 euro levaci limu della seconda casa e sono altri 760 euro levaci la tasi che sono 63 euro il rendimento netto scende al 3.8 per cento ma le spese iniziali e anche quelle devi conteggiare qui non l'abbiamo dette l'imposta di registro della seconda casa paghi 5.488 euro l'imposta catastale 50 euro non è tanto il notaio 2.200 euro i costi dell'agenzia immobiliare 8.601 euro che sono il 3 per cento più l'iva totale 16.339 euro che fa un 6 95 per cento di quello che è speso per comprare la casa quindi riepilogando se compri una casa media è un rendimento netto annuale medio del 3 308 con un costo iniziale per tutte le spese del 6 95 del valore della casa voglio rimarcare che avere una casa in affitto comporta tutta una serie di impegni di tempo e di rotture di scatole non indifferenti e passiamo ora al fondo a cedola un fondo con un investimento che ti dà una cedola sempre qui è tutto molto più semplice sul mercato italiano esistono moltissimi fondi di investimento bench e ben gestiti che danno una cedola che può andare dal 2 al 6 per cento a seconda del tipo di fondo di dove investe e di altre variabili che eventualmente ti potrei spiegare di persona facendo una media molto grezza diciamo che diversificando tra molti fondi e molti gestori negli anni passati si è avuto un rendimento tra il 3 il 4 per cento lordo a cui bisogna togliere il 26 per cento di tasse di capital gain ecco che ritorniamo ad una media del 3 per cento negli ultimi anni quasi uguale a quella dell'investimento in una casa ma vuoi mettere l'impegno e la preoccupazione che ti richiede gestire un affitto con l'impegno di andare ad incassare le le cedole nette che invece vengono accreditati sul tuo conto corrente senza pensare alle problematiche che sempre più frequentemente mi raccontano le persone che incontro e che hanno comprato la seconda la terza casa per affittarla e hanno l'inquilino che non paga che non riescono a mandare via in tempi brevi non sottovalutare questo aspetto in più in questi periodi di govi degli sfratti sono bloccati fino al 30 giugno 2021 confronto finale il fondo comune è più liquido di una casa su questo non ci sono dubbi il fondo comune ha una tassazione certa e meno soggetta a cambi legislativi il fondo comune paga regolarmente la cedola che è stabilita mentre incassare l'affitto a volte crea problemi il fondo comune può avere le spese iniziali azzerate mentre la casa delle spese iniziali che non si possono assolutamente evitare il mio parere conclusivo è che è molto più conveniente investire i tuoi soldi in un fondo a cedola e che piuttosto che in un appartamento per darli in affitto se vuoi puoi andare sul mio sito www.alfonzoselva.it e fissare una consulenza con me per approfondire l'argomento anche di persona o per telefono ciao e ci vediamo alla prossima